Si è tenuta questa mattina nel Salone di Rappresentanza di Palazzo di Città la consegna dei libri finalisti dell'undicesima edizione del Premio Letterario Badia di Cava dei Tirreni. I titoli dei tre libri che la giuria degli studenti degli istituti superiori metelliani dovrà leggere, recensire e valutare sono stati ufficializzati nel corso della cerimonia e sono tutti pertinenti al tema scelto per l'edizione di quest'anno, ossia il conflitto. Si tratta di Il Grande Futuro di Giuseppe Catozzella, Ero Cattivo di Antonio Ferrara e di Miei Genitori Non Hanno Figli di Marco Marsullo. Coloro che partecipano al Premio Badia non lo dimenticano, non lo dimenticano perché il Badia per molti giovani cavesi è stato un trampolino di lancio. Il tema che abbiamo scelto è stato il tema del conflitto. Eravamo partiti con l'idea di approcciare il conflitto familiare, ma in seduta, durante una delle sedute della Commissione, in particolare devo dare atto al professore Franco Bruno Vitolo, ha ben studiato la cosa e ha rilevato che i frutti maggiori li avremmo avuti ampliando il concetto di conflitto. La valutazione degli studenti determinerà il libro vincitore del concorso, organizzato a cadenza biennale dal Comune di Cava dei Tirreni. Per ciascuna scuola partecipante saranno invece selezionati i tre autori delle recensioni migliori, che, valutati da un'apposita commissione scientifica, si contenderanno il premio in una gara estemporanea di scrittura. Gli studenti leggeranno i libri, daranno dei voti ad ogni singolo libro entro la fine di gennaio e alla fine si stabilirà qual è lo scrittore vincitore e il libro vincitore. Però a questo punto entra in ballo un'altra situazione, cioè i ragazzi consegneranno insieme ai voti delle relazioni, delle relazioni all'interno della scuola. Le relazioni migliori saranno poi scelte per permettere ai tre autori per ogni istituto di partecipare a una finale e quest'anno c'è la grande novità del cinquettio perché i ragazzi sono invitati per ogni prova che faranno a sintetizzare in due righe, stile Twitter, un loro giudizio. L'associazione giornalista Lucio Barone di Cava Amalfi darà un premio ai migliori tweet. Il premio Badia dunque ritorna, si rinnova e rimane sempre un'opportunità per gli studenti di leggere libri interessanti ed anche sperimentare le proprie abilità critiche e creative. Il concorso all'inizio come premio c'era soltanto la recensione dei ragazzi e quindi c'era un primo, secondo, terzo fino al quinto premio. Poi è cambiato in seguito. Quando io mi ho accorso che alcuni colleghi però, che i figli partecipavano al concorso e vincevano, mi è venuto un po' con sospetto. Insieme a Franco Bruno allora abbiamo pensato di fare questa prova estemporanea dei tre, di modo che viene sommato tutto insieme finché non uscirà un solo vincitore tra i ragazzi, prima, seconda e terza. Grazie.